Dicono sicuramente che ha firmato il decreto con un tipo faccio scapolo o meraviglio. Questa giornata che si istituisce è anche lei un punto di partire, riempire di contenuti, riempire di iniziative, di dare atto a Marco e Sandro che questa battaglia l'hanno fatta per tutti. Non hanno fatto rossini che sono presenti, potrebbero anche esserci amici che vengono dalla Sapienza, amici che vengono dal campo a tutto dei lirx, tutto in un po' la ricerca. Ma come ogni progetto di ricerca non sta in piedi se non cammina anche, non solo, ma anche su quella che è davvero la comprensione della salute potrà venire. E per questo abbiamo qui al tavolo con noi il dottor Leonardo che ha capacità di lasciarsi coinvolgere la vostra storia per trovare una risposta più parentolidico che è in aula in questo momento con le esperienze che ci sono. Questa è un po' diciamo l'astutore, soprattutto in un comodo, in cui l'interlocutore, che si nuova soprattutto nella relazione con la regione Sicilia, perché voi sapete che una parte dei progettini...